Eccoci al Castelli di Saronno. Oggi un'altra ricetta. Crema d'asparagi con uovo poché. Gli ingredienti che abbiamo bisogno sono asparagi verdi, aceto bianco, olio, sale, scalogno, brodo vegetale e un uovo per una persona. Come prima preparazione andremo a pulire gli asparagi. Andremo a eliminare la parte dura finale e poi andremo a, con un pela patate, a pulire la parte finale perché rimane più fibrosa. Una volta puliti gli asparagi andiamo a tagliarli a rondelle tenendo alcune punte per la decorazione finale. Per la decorazione prendiamo le punte degli asparagi e le taglieremo a fettine sottili longitudinalmente. E le andremo a mettere in acqua fredda per conservarle. Per la crema di asparagi andremo a mettere dell'olio in una piccola casseruola e con dello scalogno tagliato a julienne. Facciamo imbiondire e poi andremo ad aggiungere gli asparagi. rosoliamo per pochi istanti, saliamo e andiamo a bagnare con del brodo vegetale. Porteremo a cottura finché l'asparago risulterà ben morbido e poi andremo a passarlo in crema. Una volta cotto l'asparago andiamo a frullarlo o con l'aiuto di un mini pin, di un frullatore in immersione o con un robot da cucina. Lo frulleremo finché risulterà ben liscia e omogenea. Per la preparazione dell'uovo poché abbiamo bisogno di una pentola d'acqua non bollente, deve essere a una temperatura circa di 80 gradi, per cui deve sobollire. Andiamo ad aggiungere dell'aceto bianco di vino. e andremo a formare un vortice nell'acqua dove poi introdurremo l'uovo. L'uovo aperto in una bacinellina per vedere se è integro. Andremo ad aggiungerlo a pelo d'acqua nella pentola. Trascorsi 2-3 minuti andremo a togliere il nostro uovo, che dovrà risultare morbido all'interno e l'albume dovrà essere completamente cotto. Andremo ora ad impiattare la nostra crema. Un mestolo abbondante di crema di asparagi tiepida sul fondo della fondina. Le nostre punte di asparagi che abbiamo scolato, asciugato e condito con olio e sale. Con l'aiuto di un coppapasta andremo a formare un letto. Dove sopra gli adageremo l'uovo poché. Togliamo il coppapasta e possiamo finire con un giro di olio extravergine d'oliva.